Allora, mi sembra Ietti, se c'è un merito nella sua squadra è certo quello di aver segnato il primo gol a questo rullo compressore che si chiama nuovo Sant'Egidiesi. Ah certo, Sant'Egidiesi è una squadra che ha tecnica, capacità al di fuori del comune in questi campionati. La differenza è tutta lì, noi ce l'abbiamo messa tutta, ho provato anche a cambiare modulo a fine primo tempo, passando da un 4-4-2 a un 4-2-3-1. Però ecco, un po' per ingabbiare anche l'allenatore, che lì in mezzo è un giocatore sicuramente che dà qualità, sa distribuire il gioco. Noi ci abbiamo provato, però non era facile, lo sapevamo già in partenza e chiaramente l'abbiamo visto la fine. Mi fa piacere che siamo stati i primi a fare gol, a bucare questa difesa, ma sicuramente se continuiamo così è la squadra candidata alla vittoria finale. Noi, la cosa che mi è stata chiesta è di fare un campionato, almeno di non rischiare nella zona a play-out, di starne un po' fuori. La squadra è abbastanza giovane, ci proveremo, è chiaro che c'è da soffrire e da lottare, perché tutte le partite sono difficili, tutte sono agguerrite, tutte sperano per chi fare i play-off o per evitare i play-out, diciamo che è duro, però è il nostro compito provarci fino alla fine. Mister Fabrizio, un'altra partita dominata, quando commentiamo è un po' sempre lo stesso commento. L'unica apprezzazione forse in quei primi dieci minuti in cui per la prima volta avete subito gol. Sì, oggi è stata una gara difficile, al di là del risultato. Noi sapevamo che questa è una squadra che gioca in questa categoria da tanto tempo, quindi sa come vanno le partite, sa giocare, sono organizzati, corrono, quindi non è stato facile. Il problema è che noi dobbiamo giocare sempre le partite al massimo e quindi sapere che ogni partita va affrontata con la massima concentrazione e la massima determinazione. Io ho detto in telecronaca, oggi c'è stato anche un giocatore migliore in campo che si chiama Fabrizio ed è anche l'allenatore della squadra. Doppia soddisfazione? Io penso che comunque la squadra non abbia giocato male, al di là di quei 15 minuti all'inizio del secondo tempo dove siamo stati un pochettino in difficoltà, dopo poi siamo stati bravi a reagire dopo il gol subito, ci abbiamo creduto e diciamo che la squadra secondo me dopo questa partita ha capito ancora di più quali sono le difficoltà che ci possiamo trovare davanti durante il resto della stagione. Un ultimo accenno è quello legato al grande entusiasmo e al pubblico, anche oggi numeroso, caloroso. Quanta voglia di calcio c'è a Sant'Egge? Sì, sì, il nostro pubblico è sempre molto presente e numeroso. Noi cerchiamo di dare il massimo della soddisfazione anche se magari anche i nostri tifosi devono capire che non sarà un'annata facile, ripeto. Quando andremo a giocare dovremo sempre fare delle partite molto importanti per raggiungere il massimo risultato e quindi chiediamo anche ai nostri tifosi di starci vicino e di darci un appoggio importante.